Anticipazioni UED, brutta notizia per Sarah, Scoop che mette a rischio il trono Le ultime settimane del trono di Sarah a Fifella a uomini e donne potrebbero essere caratterizzate da una serie di colpi di scena clamorosi che potrebbero mettere addirittura in discussione tutto il percorso fatto fino a questo momento e portarla ad abbandonare la trasmissione senza compiere alcun tipo di scelta Nel corso della puntata del trono classico di oggi pomeriggio abbiamo visto che la bella Sarah ha dovuto fare i conti con la reazione del tutto inaspettata di Lorenzo che ha scelto di andare via dalla trasmissione Nuova segnalazione su Lorenzo, come reagirà Sarah? Il motivo di tale decisione di Lorenzo? Non ha gradito lesterna tra Sarah e Luigi, dove abbiamo visto che tra i due cè stato un bacio molto intenso che ha mandato su tutte le furie il corteggiatore, al punto da maturare questa decisione di andare via a poche settimane dalla fatidica scelta finale Eppure nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne che vedremo in onda su Canale 5 tra fine marzo e i primi di aprile, potrebbero essere ben altri i problemi che potrebbero indurre Lorenzo ad abbandonare definitivamente la trasmissione sentimentale di Canale 5 Sì, perché in queste ore sui social circolano delle segnalazioni particolari che riguardano il corteggiatore della trasmissione di Maria De Filippi Un e fan di Ued, infatti, sostengono di aver beccato Lorenzo in una nota discoteca di Milano in compagnia di una ragazza A quanto pare il corteggiatore di Sara si sarebbe lasciato andare un po' troppo nei confronti di questa ragazza e il suo modo di fare non sarebbe passato inosservato, al punto che diverse utenti in queste ore hanno riportato la segnalazione sul web Sara lascia Uomini e Donne senza fare la scelta? Ovviamente tutto questo potrebbe finire in trasmissione nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne Trono Classico C'è da scommettere, infatti, che la redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia sia stata messa al corrente di quanto sarebbe accaduto in questa famosa discoteca di Milano e quindi nella prossima puntata il corteggiatore dovrebbe dare delle spiegazioni a Sara Come reagirà a questo punto la tronista napoletana? Tale scoop potrebbe mettere anche a repentaglio il suo percorso finale, visto che dalle ultime puntate sembra abbastanza palese il fatto che la tronista sia molto interessata a Lorenzo e che la sua scelta sia indirizzata proprio verso di lui Grazie a tutti